Oggi parliamo di un argomento molto delicato, quello del reato di violenza sessuale. Il Movimento 5 Stelle è intervenuto a 360 gradi per il contrasto alla violenza sulle donne e i crimini contro i minori, intervenendo anche nel settore in materia di cultura, educazione e prevenzione di questi fenomeni. È necessario però per noi componenti della Commissione Giustizia anche intervenire per contrastare e reprimere questi reati, garantendo la certezza della pena alle vittime. Più di 2.300 denunce quest'anno per questo tipo di reati, ma la cosa più grave è che 9 donne su 10 non denunciano quello che hanno subito. Quindi bisognerà intervenire per inaspirire le pene in certi casi, li potrete leggere nella proposta e garantire anche un'adeguata formazione alle forze dell'ordine che ricevono questo tipo di denunce. Questo punto sarà inserito anche nel programma Giustizia del Movimento 5 Stelle, quindi se avete suggerimenti, critiche, un vostro contributo che volete dare dopo aver letto la relazione e la proposta di legge, potete farlo come sempre su Lex.